Un altro, l'ennesimo catanese in giro per il mondo porta bandiera dei colori siciliani. È il caso di Giuseppe Sapuppo, etneo doc, classe 88, professione regbista, che in questo momento si trova ad Hong Kong con la nazionale 7 per disputare il prestigioso torneo IRB World 7 Series. Ecco l'orgoglio del suo allenatore di club, Orazio Arancio. Andiamo a Hong Kong con Giuseppe Sapuppo per il torneo annuale di Hong Kong di legge passette, che è il torneo più importante dell'anno. Per noi è un motivo di orgoglio avere anche un ragazzo nella nazionale legge passette, che come sapete è diventato sport olimpico dal 2016 a Rio de Janeiro, per cui avere, diciamo, fra virgolette, un olimpionico in squadra è per noi motivo di grande onore. Ma i successi di Sapuppo hanno storia lontana nonostante la sua giovane età. Infatti, già dai tempi dell'amatori Catania, la squadra che l'ha visto nascere regbisticamente, che l'ha fatto crescere e sbocciare, il giovane talento catanese riscuoteva l'approvazione di mezza Italia. Adesso è un po' più cresciuto e con l'età per lui stanno aumentando le responsabilità, le attenzioni, le aspettative e ovviamente gli impegni. Il trofeo di Hong Kong, in programma da domani fino a domenica, per l'appunto ne è un esempio. Nella prima fase gli azzurri affronteranno le isole Samoa il 26 marzo, il giorno 27 Argentina e chiuderanno con la Russia domenica. La banda di mister Marco De Rossi, con Sapuppo e compagni, andrà a caccia di una difficile qualificazione olimpica. Ma come abbiamo sentito dalle parole di Horacio Arancio, Giuseppe per Catania è già un olimpionico.